Carcere di Piazza Lanza, Catania, tasso di sovraffollamento 341%. Ecco la struttura carceraria più affollata della Sicilia, un luogo dove i detenuti sono costretti a vivere anche in 10, in celle tra i 18 e i 22 metri quadrati. Il peggiore dei quattro reparti è il nicito, la sezione di isolamento utilizzata anche per i protetti. Muri scrostanti, pochissima luce, celle piccole con bagno alla turca e docce in comune sono condizioni con le quali i detenuti devono confrontarsi ogni giorno. Grazie a tutti.